Ci sono molti medici di famiglia, ma anche medici ospedalieri, bravissimi, professori universitari di medicina, che ancora mantengono un atteggiamento diffidente e ho avuto modo di incontrarne tanti parlando di farmaci generici, equivalenti e questa diffidenza nasce da una cattiva informazione, c'è più principio attivo, ce n'è di meno, non va, l'eccipiente chissà che cosa mi potrà fare, cioè il livello di informazione, di conoscenza del fenomeno a quasi 20 anni oramai dall'introduzione di questi farmaci è ancora piuttosto alto e piuttosto pervasivo e molti, come dice qualche mio collega, lo accetto per forza, ho torto collo perché alla fine il paziente poi non può sopportare una spesa differenziale troppo alta, ma mantengo un atteggiamento di diffidenza e questo a mio parere può nascere soltanto dal fatto di non aver avuto tempo da dedicare alla comprensione di questo aspetto dell'accesso al farmaco per aver ricevuto delle informazioni distorte, ma non c'è dubbio che non solo fra i medici di cure primarie, ma in tutta la classe medica e anche, ripeto, per conoscenza diretta, nell'ambito dei colleghi farmacisti esistono ancora diffuse queste diciamo sacche di diffidenza che dovrebbero un po' la volta essere proprio eliminate.